Qualcuno conosce questo tipo di liana perché quando si taglia esce acqua e da più di cinque minuti che l'ho tagliata può essere curativa per qualche malattia mantiene acqua pazzesco sono delle liane lindissime che si attorcigliano nel bosco pazzesco quant'acqua possa esserci nella pianta e ci sono tante di queste liana non so che tipo di pianta abbiamo fatto un bel lavoro ieri a tagliare tutte queste liana e sparsele quindi dove c'è abbiamo tagliato tutte le erbe acce qua ci sono delle erbe che sono molto contingenti abbiamo anche un bel lavoro ieri a nove sotto mi raspira devi andare molto su andiamo nel bosco andiamo nel bosco e abbiamo molto da lavorare questo col vento è caduto quest'albero mi sa che lo devo tagliare a pezzi e a finire le faccio la bascaiola mi cominciamo a lavorare saluto da tutti dal porco di Agatha quest'altro futuro lavoro che bisogna fare di tagliare a tutte queste bacio cominciamo a tagliare bacioni